se non lo facciamo pesistere sono delle persone che... ma che dabbo mi ha pupato dabbo mi ha pupato non dico la parola dove perché qui ci si appende quello... quell'autista l'autista, quello che guida quell'autista di merda ma come ci si appende dabbo mi ha pupato che dabbo mi ha pupato ragazzi ci sono zero spettatori ci sono zero spettatori dabbo mi ha pupato dabbo mi ha pupato dabbo mi ha pupato quell'acustico di merda quell'acustico di merda ragazzi ma posso dire che odio i giri anche io i giri madonna che buona odio le locuste odio le locuste odio le locuste odio lo locuste odio lo locuste dai comunque è una puttana sentiamo mio fratello ha guardato lo locuste che non lo abbiamo fattato mio fratello ha guardato lo locuste su ticc mio fratello mi ha pupato può che altro può che altro diretti Grazie a tutti 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 Grazie a tutti